Sì, abbiamo provato a cercare di ribaltare la partita, però alla fine non siamo riusciti, si sono chiusi bene, però magari gli episodi ci hanno penalizzato. Come dal campo, però posso dire che il primo rigore magari non c'era, però nel calcio come ti dà ti può anche togliere. Quindi è andata così, dobbiamo ripartire per la prossima partita perché ancora ne mancano un bel po'. Ne parlavamo anche con Pilon qualche istante fa. Pescara che fa molto bene in casa, ma che in trasferta soffre nelle ultime quattro partite e non ha raccolto punti. Come mai questo doppio rendimento? Nel calcio a volte succede che magari in casa riesci a portare a casa i punti, però fuori casa magari fai più fatica. Però, come ho detto anche prima, gli episodi è stata una partita abbastanza combattuta. Abbiamo sofferto un po', ma ci può stare qua a scuole venire a soffrire perché l'ambiente ti porta anche a questo. Diciamo che abbiamo provato a giocarci, poi gli episodi sono andati così e quindi pensiamo alla prossima che è meglio. Quanto scalpiti per riprenderti la maglia di titolare? Ognuno, tutti vorremmo giocare. La squadra è composta da giocatori tutti forti, sono sincero. Quindi vediamo cosa succederà, però io sono pronto, qualora dovesse chiamare in causa, io cerco di dare sempre il massimo. Partita questa, questa sconfitta, arrivati in una gara molto sentita dai tifosi, tifosi che sono arrivati numerosi oggi ad Ascoli. Volevate regalare loro una soddisfazione e così non è stato. Certo, ogni partita cerchiamo di regalare soddisfazioni perché vengono in tanti, le ringraziamo perché ti fanno per noi, ci fanno sentire i loro calori come la partita di mercoledì e quindi dobbiamo ripartire anche per loro. Etano, nell'assalto finale è mancato un pizzico di fortuna perché il colpo di testa di Capone, se non erro, ha sfiorato il palo. Raccontaci un po' quei secondi finali. Sì, abbiamo provato a buttare le palle dentro, eravamo tutti in attacco, io, Manguso, Bellini. Poi si è trovato lì Cristian, è stato un po' spinto, si è contrastato con il nostro compagno Graviglione, quindi ci sono giornate che magari come la Tocchi entra, giornate così che magari un tiro va fuori. Si può dire che oggi, soprattutto nel secondo tempo, l'Ascoli ha avuto più convinzione del pescare nel cercare di vincere questa partita? No, non direi convinzione, però sono stati più, diciamo, più bravi ad attaccare, noi eravamo lì pronti a ripartire e alla fine è andata così.